Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento semplice e pure spinoso. Sì, perché una volta che abbiamo terminato il nostro artwork, le nostre lavorazioni, la nostra post-produzione, il nostro fotoritocco, qualunque cosa stiamo facendo, una volta che abbiamo completato i nostri lavori dobbiamo salvare la nostra immagine con l'applicativo di Photoshop. Sì, perché una volta che abbiamo terminato la nostra lavorazione all'interno dell'applicativo di Adobe Photoshop dobbiamo salvare la nostra immagine, dobbiamo tirarla fuori dall'applicativo e salvarla in un formato che sia consono per l'obiettivo che ci siamo posti. E qui si pone la domanda, come faccio a salvare questa immagine? Perché esistono moltissime opzioni di salvataggio all'interno di Photoshop. Infatti esiste l'opzione salva, esiste l'opzione salva come e poi abbiamo una serie di opzioni esporta. Dunque, andiamo a vedere quali sono le differenze principali. Innanzitutto facciamo un distinguo. Nel momento in cui noi facciamo salva o salva come, stiamo dando un comando, nel momento in cui facciamo esporta, il comando è lievemente diverso. Storicamente per salva si intende salva il documento così com'è. Quindi salvo rari casi, nel momento in cui noi andiamo a salvare un documento, stiamo semplicemente scrivendo le modifiche che abbiamo fatto su quel documento, senza però modificare il tipo di documento. Stiamo semplicemente scrivendo le modifiche su un file che probabilmente esiste già. Se il file non esiste già e noi facciamo salva, ci viene chiesto dove vogliamo salvare il file. Però tendenzialmente nel momento in cui facciamo salva stiamo semplicemente scrivendo le modifiche, quindi senza modificare il tipo di file. Ci sono delle eccezioni. Se noi apriamo un file jpeg o un file png, quindi un file senza livelli, creiamo dei livelli e facciamo salva abbiamo implicitamente modificato il tipo di documento. Perché se avessimo fatto una modifica pittorica, faccio un esempio stupido, se avessimo fatto semplicemente un disegnino col pennello sopra un'immagine jpeg e facessimo salva, avremmo salvato la nostra immagine jpeg con il nostro segno del pennello applicato. Quindi non abbiamo modificato il tipo di file, abbiamo soltanto scritto una pennellata. Ma se noi prendiamo lo stesso jpeg e duplichiamo il livello, per esempio, non può più essere salvato come jpeg perché contiene dei livelli. Quindi le cose sono due, o comprimiamo i nostri livelli e lo trasformiamo nuovamente in un file con un solo livello, quindi facciamo merge layers o comunque cancelliamo i livelli e ne teniamo uno solo, a quel punto può essere di nuovo salvata come jpeg. Ma se noi facciamo salva, comando salva, quindi comando ctrl s su un jpeg a cui abbiamo creato dei livelli, a quel punto Photoshop apre una finestra di dialogo che ci segnala che non può salvarlo come jpeg, dobbiamo scegliere un formato che sia psd, che sia tif, un formato che possa mantenere i livelli. In alternativa noi possiamo salvarlo come jpeg, ma glielo dobbiamo dire noi, perché Photoshop non si prende la briga di compattare i nostri livelli senza avvisarci. Per questo motivo ogni volta che salviamo un jpeg su cui abbiamo creato dei livelli viene fuori una finestra di dialogo e sostanzialmente stiamo facendo salva come invece di salva. Stessa cosa succede se abbiamo aperto un documento da zero e facciamo salva, a quel punto si apre la stessa finestra di dialogo che ci chiede dove vogliamo posizionare questo documento perché non esiste ancora sul computer, l'abbiamo appena aperto e quindi esiste solo in RAM. Una volta che lo andiamo a salvare esiste anche sulla nostra macchina, quindi ci viene lanciata questa finestra di dialogo. Finestra di dialogo che è la stessa del comando salva come. Nel momento in cui noi facciamo salva come o salva con nome, secondo se è italiano in inglese, è save as o salva con nome in italiano, mi sembra, se lanciamo quel tipo di comando noi stiamo lavorando su un file però stiamo dicendo a Photoshop noi vogliamo salvare una copia del documento, non vogliamo scrivere questo documento, quindi io ho il file 1, ho fatto delle modifiche, quando faccio salva scrivo il file 1 e le modifiche saranno sul file 1, ma se io ho il mio file 1, faccio delle modifiche e voglio creare un file 2 per averli entrambi, faccio salva come save as e gli dico salvalo come file 2, quindi avrò il mio file 1 senza modifiche, il mio file 2 con le modifiche, a questo punto il mio file 1 potrebbe essere un jpeg, il mio file 2 potrebbe essere un psd perché ho creato dei livelli e quindi ho fatto salva come, ho creato una copia che però contiene delle modifiche aggiuntive che prima non c'erano. questo è il modo in cui si salvano i documenti con formati nativi, quindi per esempio io sto lavorando con un jpeg, faccio delle modifiche che non creano livelli, salvo, rimango nativamente sul jpeg e quindi il mio jpeg viene scritto così com'è, oppure io apro un psd, faccio delle modifiche su un psd, faccio salva e viene scritto il mio psd e rimane un psd. Il comando esporta invece serve per fare delle cose un pochettino diverse, non stiamo più scrivendo un formato nativo, serve per fare delle cose un po' diverse. Per esempio dentro a esporta abbiamo tutta una serie di funzioni che sono ad esempio salva per web, ci consente di esportare in formati che non sono nativi di photoshop ma sono magari nativi del web o di altri applicativi. Ovviamente possiamo salvare in jpeg per il web, possiamo salvare in png per il web, quindi abbiamo dei formati magari più compressi che allora per carità funzionano eh, anche se se dobbiamo comprimere delle immagini, io me la sento di consigliare invece di utilizzare lo strumento online squash di cui vi lascio il link in descrizione, è uno strumento che è approvato da google per i siti web, quindi nel momento in cui dobbiamo comprimere delle immagini magari per andare online, secondo me questo strumento è meglio degli algoritmi di compressione di photoshop e che comunque funzionano. Se invece dobbiamo consegnare delle immagini a un cliente e ce le ha chieste in formato web, possiamo tranquillamente usare esporta per il web e possiamo salvare in jpeg oppure in png con vari formati di esportazione. Cosa ancora più importante, esporta per il web ci dà la possibilità di salvare in formato gif, quindi vi lascio in card uno dei miei video recenti in cui ho parlato di come si salvano le gif con photoshop. Questo è essenziale perché nel momento in cui abbiamo creato le nostre gif, abbiamo fatto tutto il nostro procedimento per creare la nostra animazione gif, poi non possiamo fare salva, perché se facciamo salva stiamo salvando un file psd di photoshop che contiene l'animazione, però quello non è un file che possiamo usare come gif, quello è il progetto. Nel momento in cui noi vogliamo usare la gif dobbiamo tirarla fuori da lì e salvarla come gif e quindi dobbiamo fare salva per web, impostare il formato gif, poi andare a vedere il dithering, andare a vedere la trasparenza a seconda di quello che abbiamo fatto per esportarla così come deve essere e photoshop ha un bel sistema di export delle gif, è un bel sistema di animazione, ci permette di fare tante cose anche se devo dire che ogni tanto ho riscontrato qualche bug, quindi se la nostra gif è molto complessa magari i tempi di animazione sono un po' ballerini, magari se la nostra gif è piena di cose ci sarà qualcosa che sfarfalla ogni tanto, però insomma le cose più belle soprattutto nel design sono cose semplici, quindi per le cose semplici siamo in una botte di ferro, quelle funzionano sempre. Andatevi a dare un'occhiata al video che vi lascio in card su come si esportano le gif con photoshop perché lì vi spiego tutto nel dettaglio. Un altro comando molto interessante è questo che vi faccio vedere che ci permette di salvare ogni singolo livello come un'immagine indipendente, questo è molto utile nel caso in cui avessimo un artwork magari complesso oppure una grafica e ci servissero i pezzi separati perché questo comando ci permette con un comando solo, un click solo, di esportare ogni singolo pezzo, quindi ogni livello, possiamo scegliere se vogliamo salvare i livelli visibili o anche quelli invisibili, possiamo scegliere il formato e la destinazione di salvataggio e quindi in un attimo senza stare a fare spegni tutti i livelli, apri solo un livello e salva, poi apri il livello sotto, salva il livello sotto, no, ce lo fa lui in automatico, tutto quanto. Questo è un comando che esiste dalla versione 2019 mi sembra o 2018, quindi le versioni successive ce l'hanno, le versioni precedenti non garantisco. È un comando secondo me utilissimo, io l'ho usato tipo tre o quattro volte in tutta la mia vita, quindi è utilissimo, poi non si usa quasi mai, però è bello sapere che c'è perché nel momento in cui abbiamo quella roba lì che dobbiamo esportare tutti i vari pezzi di un artwork non è più una roba che dice oh madonna adesso lo sta, no, lo fai con un click subito e diventa assolutamente indolore e a quel punto uno lo fa e il computer ci mette 30-90 secondi se è un artwork complesso, a quel punto noi possiamo girarci e fare un'altra cosa e aspettare che l'operazione sia terminata, per cui secondo me molto bene che ci sia questa possibilità molto molto bella. Andiamo a vedere quali sono le possibilità di salvataggio a nostra disposizione. Innanzitutto in questo momento possiamo fare save es o salva con nome, questo perché abbiamo aperto un'immagine a cui non abbiamo fatto nessuna modifica, infatti questo ci viene segnalato anche da questo particolare, come potete vedere qui in alto a sinistra abbiamo la X all'interno del pallino rosso che serve a chiudere il documento e non ci viene segnalata nessuna modifica, guardate che cosa succede nel momento in cui faccio una modifica qualunque. Ok come vedete ho dato una pennellata e immediatamente compare un pallino all'interno di questo tondo rosso che ci segnala che ci sono delle modifiche non salvate e ora se io vado su file posso fare salva oltre che salva con nome perché ho fatto delle modifiche e quindi posso salvare e andare a sovrascrivere il mio file originale. Non è quello che vogliamo fare? Infatti noi faremo save as, vediamo infatti che si apre una finestra di dialogo e quindi possiamo scegliere dove salvare il nostro file e possiamo scegliere con che nome, io lo chiamerò test1 e vado a salvarlo come jpeg, potrei anche salvarlo in un'altra maniera, potrei anche salvarlo come photoshop pdf o potrei salvarlo come psd o potrei salvarlo come tiff, posso decidere il formato, posso salvarlo come png, posso salvarlo in qualunque altro formato però in questo momento lo risalvo come jpeg, vado a salvarlo, queste sono le opzioni jpeg, io vi dico che in tanti anni non ho mai salvato in nessun'altra opzione che non fosse la massima qualità, quindi salviamo sempre qualità 12 massima, io vi consiglio di usare sempre baseline standard perché le altre due opzioni hanno delle variazioni molto lievi ma questa qui appunto è la standard quindi personalmente utilizzo sempre questa. Andiamo a dirgli ok ed ecco che il nostro nuovo file è stato salvato nella posizione che gli abbiamo detto. Ora nel momento in cui andiamo a fare delle nuove modifiche torneremo a vedere il puntino all'interno di questo tondo rosso che ci avverte che sono state modificate delle cose mentre in questo momento nuovamente possiamo chiudere il nostro file e andare eventualmente a riaprirlo da qui e non ci viene chiesto di salvarlo perché non ci sono modifiche salvate quindi in questo momento noi possiamo aprirlo e chiuderlo tranquillamente senza lanciare nessuna finestra di dialogo. Nel momento in cui avremo fatto delle modifiche invece compariranno delle finestre di dialogo. Vedete che nuovamente possiamo fare salva con nome ovvero salvare una coppia di questo file come abbiamo fatto prima ma non possiamo sovrascrivere le modifiche perché non ce ne sono. Nel momento in cui andiamo a fare una modifica come potrebbe essere per esempio questa, lo so che è una modifica bruttissima però è solamente per fini dimostrativi, in questo momento possiamo fare salva perché abbiamo fatto una modifica e quindi questa modifica viene sovrascritta e non so se riuscite a vedere da qui ma nell'anteprima compare questo bruttissimo quadratino beige che ho fatto quindi la modifica è stata sovrascritta con successo. Finché abbiamo il file aperto abbiamo la possibilità di fare comand z o ctrl z e annullare la modifica che abbiamo fatto e a questo punto potremo salvare nuovamente e vedete che l'anteprima viene modificata e il quadratino è scomparso dall'anteprima quindi finché abbiamo il file aperto siamo in grado di retrocedere anche dopo un salvataggio ma se noi avessimo chiuso il file non saremo più in grado di intervenire sulle modifiche salvate quindi questo è importante da tenere a mente soprattutto se lavoriamo in maniera distruttiva. Sovrascrivere i pixel in questa maniera significa lavorare in maniera distruttiva. Ora andiamo a vedere com'è possibile lavorare in maniera non distruttiva. Dobbiamo tenere a mente che siamo all'interno di photoshop che è per quanto mi riguarda l'applicativo più bello di tutti i tempi per cui una delle cose che possiamo fare è lavorare in maniera non distruttiva e quindi lavorare con i livelli. Vedete io vado a creare un nuovo livello adesso non sto a spiegarvi come si creano i livelli perché ci sono altri video che parlano di questo argomento e a noi qui interessa come si salva. Quello che ci interessa in questo momento però è che nel momento in cui io vado a fare una modifica su un nuovo livello questa modifica è non distruttiva il che significa che se io vado a salvare il mio file avrò sì creato un quadrato bianco in questo punto ma questo quadrato sarà editabile quindi potrò rimuoverlo a mio piacimento o spostarlo se è per questo quindi potrò prenderlo e trascinarlo in giro anche dopo il salvataggio del documento. Vediamo che ovviamente abbiamo il nostro puntino che ci segnala che ci sono delle modifiche non salvate possiamo fare save o save as. Se andiamo a fare save tuttavia vedete che ci viene aperto lo stesso pannello di salvataggio che verrebbe aperto se avessimo fatto save as e questo perché è cambiata l'estensione del nostro file. Infatti se prima avevamo un file composto da un unico livello e quindi poteva tranquillamente essere salvato come jpeg adesso abbiamo un file con i livelli e quindi questo file deve essere salvato con un'estensione che ci consenta di mantenere questi livelli. Noi ovviamente possiamo dirgli che vogliamo salvare come jpeg e quindi otterremo lo stesso risultato di prima ovvero avremo i due livelli fusi insieme proprio in questo modo. In questo modo abbiamo fuso i nostri livelli e vedete che abbiamo un solo livello con la modifica incorporata. Nel momento in cui però decidiamo di salvare un file con i livelli quindi andiamo a dirgli salva o salva come in questo caso non cambia perché viene cambiata l'estensione avremo un file che adesso chiamiamo test2 che avrà un'estensione .psd quindi sarà un file con più livelli che potremo riaprire e editare nuovamente. Come vedete qui compare il nuovo file. A questo punto se io chiudo e riapro questo file vedete che lo chiudo e lo riapro e quello che succede è che mi ritrovo la situazione immutata quindi il mio layer 1 con il mio quadrato bianco non è stato fuso nell'immagine ma è stato mantenuto separato e quindi posso editarlo anche se ho salvato e chiuso il mio file. Questo è molto importante perché se abbiamo un progetto con delle modifiche di cui non siamo sicuri lo salviamo con i livelli in maniera tale da poterlo editare successivamente. Questo è il grandissimo vantaggio introdotto da Photoshop ormai moltissimi anni fa. Ora vedete che nel momento in cui abbiamo fatto una modifica come potrebbe essere questa possiamo tornare su file e a questo punto se facciamo save non viene più lanciata la finestra di dialogo perché nuovamente il formato viene mantenuto quindi test2.psd rimane un file.psd rimane un file con i livelli e quindi io posso modificarlo e salvarlo sovrascrivendo il file originale. Questa differenza è essenziale perché nel momento in cui io vado a sovrascrivere il file originale sto scrivendo le mie modifiche su questo file su test2 che è un file psd quindi se sto lavorando in maniera non distruttiva quindi con i livelli posso salvare diciamo a cuor leggero. Se viceversa io stessi lavorando su un file con un solo livello in questo caso starei probabilmente salvando un jpeg o comunque un psd con un solo livello in questo caso devo stare molto attento a quando premo il comando salva perché le modifiche non sono più editabili una volta che sono state salvate una volta che è stato chiuso il file quindi devo fare molta attenzione a questa cosa. Abbiamo visto i due principali metodi di salvataggio all'interno dell'applicativo adesso andiamo a vedere che esistono degli altri metodi che si trovano all'interno del sottomenu esporta. Ora qui abbiamo delle opzioni che possono essere salva per il web tra parentesi legacy perché è un'opzione vecchia importata dalle versioni precedenti. Nel momento in cui andiamo a fare save for web c'è anche un comando da tastiera che io ho imparato a memoria perché mi viene molto comodo e si usa abbastanza spesso. Ora siate buoni con me sorvoliamo sul fatto che su questa versione dell'applicativo col mio attuale sistema operativo ci sia questo bug per cui non viene mostrata l'anteprima però tanto quello che a noi interessa sono sostanzialmente i formati perché nel momento in cui lanciamo salva col web quello che ci interessa è poter selezionare il formato che vogliamo infatti abbiamo jpeg in alta risoluzione abbiamo anche jpeg in media e bassa ma non si usano mai tanto è comunque un formato compresso. Se vogliamo salvare per il web andremo quindi a selezionare jpeg formato alto se stiamo salvando una foto come in questo caso andremo a utilizzare probabilmente png 24 se stiamo salvando una grafica o comunque un'immagine con una prevalenza di parti grafiche con tinte piatte. Se invece stiamo lavorando su un file con delle animazioni andremo a selezionare uno dei tanti formati gif in particolare io consiglio di utilizzare gif 128 con dithering se siete interessati all'argomento vi lascio in card un video in cui ho spiegato nel dettaglio come si creano e si salvano le gif all'interno di photoshop andremo a vedere nel dettaglio tutti questi parametri su una versione dell'applicativo che mi permette anche di farveli vedere bene. Quello che ci interessa qui è semplicemente sapere che abbiamo la possibilità di salvare dei formati compressi per il web andremo quindi a salvare delle foto che avranno automaticamente il profilo colore corretto per il web ovvero srgb e andremo a salvare delle versioni delle nostre immagini ridotte più piccole. Qui abbiamo la possibilità di intervenire anche sui megapixel quindi come vedete altezza e larghezza quindi abbiamo la possibilità di rimpicciolire le nostre immagini ovviamente questo è un file nativo della fotocamera quindi è troppo grande per il web andremo a ridimensionarlo in modo tale da dargli per esempio 1920 per il lato lungo e il lato corto si adatterà automaticamente alle dimensioni che diamo al lato lungo. Questo è importante da sapere perché sempre più spesso le immagini che noi lavoriamo vanno poi utilizzate sul web più che sulla stampa ormai pochissimi stampano la carta stampata sta sostanzialmente morendo quindi è molto importante sapere che se vogliamo salvare le nostre immagini per il web questo è il metodo più rapido non è necessariamente il migliore ma è il più rapido. Sempre all'interno del pannello esporta abbiamo anche esportazione rapida come png anche questa è un'opzione simpatica e questa può essere modificata all'interno delle nostre opzioni infatti possiamo andare all'interno delle preferenze e dirgli che vogliamo quick export as jpeg quindi possiamo modificare questa impostazione come preferiamo. Io la lascio come png perché sostanzialmente non la uso mai quando salvo un png vado a fare save as e scelgo l'estensione png così posso salvarla mantenendo tutte le sue qualità invece in questo modo vado a salvarla in maniera veloce e quindi di nuovo avrò un file un pochettino più carente dal punto di vista della qualità è una cosa che ci sta se vogliamo far vedere delle bozze delle anteprime però non è un'opzione che io utilizzo tanto spesso vedete qui che se andiamo all'interno di preferenze di esportazione possiamo modificare il file d'uscita quindi possiamo dirgli che vogliamo un jpeg che vogliamo un gifo che vogliamo un svg ovviamente queste sono opzioni rapide quindi è una cosa che ci permette di intervenire molto limitatamente sul nostro file vedete che le opzioni sono abbastanza poche possiamo solamente dirgli che per fare l'esportazione veloce vogliamo quel tipo di file ma è come detto un'esportazione veloce se vogliamo fare una cosa di qualità è meglio andare più in profondità e avere la possibilità di mettere le mani su tutti quelli che sono i parametri della nostra immagine successivamente abbiamo esporta come qui nuovamente viene lanciato un pannello di esportazione e qui attenzione qui l'anteprima sembra che funzioni a differenza di prima qui nuovamente abbiamo la possibilità di andare a selezionare un formato e qui abbiamo la possibilità di intervenire con un pochino più di precisione sui nostri parametri perché vedete che a differenza del quick export qui abbiamo la possibilità di modificare le dimensioni di modificare la scala di modificare il resample di modificare le dimensioni possiamo decidere se includere o meno i metadata come copyright e informazioni di contatto come vedete color space converti in srgb quindi di nuovo stiamo ragionando per un'immagine che probabilmente dovrà finire sul web perché srgb è lo standard per il web qui nuovamente possiamo andare sulle export options per andare a modificare qualche parametro direttamente dalle impostazioni di photoshop ma io vi consiglio di non farlo perché comunque quelle di default solitamente vanno bene in un pannello come questo solitamente si va a intervenire unicamente sulla dimensione qui abbiamo la possibilità di esportare la nostra immagine la differenza tra export e save è che tendenzialmente save andrà a salvare l'immagine in un formato nativo quindi andrà o a scrivere un file che è jpeg o png e rimane jpeg o png oppure andrà a scrivere nel formato nativo di photoshop quindi psd nel momento invece in cui gli diciamo export stiamo esportando in formati che non sono nativi di photoshop come svg e come png e come gif questi sono formati che hanno delle applicazioni ben precise l'svg in particolare serve soprattutto per applicativi web serve per caricare i loghi sui siti web per esempio è un formato tendenzialmente vettoriale anche se può includere anche delle immagini mentre gif è il formato che utilizziamo per incapsulare delle animazioni all'interno di un file quindi sono formati non nativi di photoshop che hanno delle applicazioni ben precise ora photoshop è in grado di salvare un file in formato gif infatti se noi andiamo a fare save es e impostiamo gif possiamo farlo però in quel caso è molto meglio salvare un file psd che quindi rimane come nostro progetto con all'interno i livelli e con all'interno le nostre animazioni su cui possiamo ancora intervenire senza caduta qualitativa nel momento in cui invece abbiamo terminato andiamo a esportare la nostra gif quindi andiamo a salvarla con un sistema di esportazione che la rende più adatta per gli applicativi su cui la useremo quindi in questo caso sono applicativi unicamente web per cui vedete che per esempio l'applicativo ci aiuta e ci converte l'immagine in srgb queste sono tutte agevolazioni che ci servono nel momento in cui andiamo a salvare la nostra immagine bene rimane ancora qualche opzione da esplorare all'interno del pannello export vedete infatti che rimangono render video questa è un'opzione interessante perché photoshop è in grado di renderizzare anche dei video quindi nel caso avessimo fatto delle animazioni con la timeline e vi rimando nuovamente al mio video sulla creazione di gif perché il procedimento è il medesimo potremmo renderizzare dei video abbiamo anche la possibilità di esportare i tracciati a illustrator questa è un'opzione interessante perché se abbiamo fatto dei tracciati complessi possiamo esportarli in illustrator e avere quindi magari un tracciato di ritaglio o un logo se siamo stati così sprovveduti da creare un logo vettoriale su photoshop abbiamo poi un'opzione che a me piace moltissimo che è layers to files ora quest'opzione non fa altro che salvare ogni singolo livello singolarmente questa può sembrare una stupidata però facciamo finta di avere un artwork con molti livelli per praticità andremo semplicemente a dividere in due questo livello quindi andremo a selezionarlo e andremo a fare un'operazione di questo tipo ok quindi in questo momento adesso vado a deselezionare in questo momento noi abbiamo due livelli separati per le nostre due metà quindi abbiamo la metà di sinistra e la metà di destra è evidente che se io volessi salvare questi due pezzi separatamente dovrei andare a deselezionare il primo selezionarne uno solo e andare a fare un primo save as dopodiché dovrei invertire il procedimento e fare un secondo save as nel momento però in cui noi andiamo a dirgli export layers to files e qui si lancia un pannello di esportazione che nuovamente non mi lascia vedere le opzioni ma io tanto so benissimo che me lo sta esportando dove già voglio e so benissimo che me lo sta esportando con un formato che probabilmente mi va già bene perché anche se non me lo fa vedere di default dovrebbe essere un jpeg quindi mi andrà a salvare le due metà come due file separati questo adesso sembra poco utile perché qui sono solamente due pezzi quindi ci avrei messo poco però immaginatevi di avere un progetto complesso con tanti livelli con dieci o più livelli in quel caso avere la possibilità di salvare ogni singolo pezzo separatamente con un'operazione automatizzata può veramente svoltarti la giornata perché a quel punto lasci lavorare il computer e tu puoi metterti a fare altro per quei due minuti che ci metterà a esportare tutti i livelli del tuo progetto è un'opzione che secondo me è molto molto utile si usa molto spesso quando si vogliono realizzare dei compositing e servono poi i singoli pezzi per lavorare in un altro applicativo come potrebbe essere per esempio after effects ora una cosa importante per quanto riguarda il salvataggio fino adesso abbiamo visto come è possibile salvare un documento lasciando le impostazioni così come sono oppure esportare un documento con una serie di opzioni che ci danno già dei parametri corretti in questo caso per il web tuttavia è importante sapere che quando salviamo un file è necessario applicare un profilo colore coerente con lo scopo del nostro salvataggio per cui per esempio questo è un file rgb 8 bit se io sto salvando per il web dovrò andare su modifica converti in profilo e gli dovrò dare un profilo corretto per il web quindi per esempio in questo caso stiamo lavorando con srgb quindi è già un profilo corretto per il web va bene così io potrei anche andare a selezionare display p3 che è un profilo colore sempre adatto per il web ma con un gamut un pochettino più ampio rispetto all srgb lo svantaggio è che potrebbe non essere pienamente sopportato da tutti i device quindi in questo caso diciamo che per non rischiarmela io lascio srgb se invece stessimo salvando questo file per la stampa potremmo andare a selezionare un profilo di quadricromia quindi potremo andare a dirgli converti profilo e potremmo andare a selezionare quadricromia fogra 39 che è lo standard per la stampa ovviamente facendo queste modifiche è possibile che qualche colore cambia all'interno della nostra immagine per questo si converte adesso perché se notiamo una variazione cromatica molto evidente possiamo andare a intervenire per ripristinare la colorimetria che vogliamo prima di andare in stampa se questo passaggio non lo facciamo verrà delegato alla nostra stampante fondamentalmente quindi i colori potrebbero venire sballati saranno fuori dal nostro controllo invece se impostiamo il profilo colore corretto in stampa i colori saranno quanto più vicini possibile a quello che vediamo a monitor abbiamo visto i casi della stampa o dell'export per il web ma esistono anche altri casi nel caso in cui infatti volessimo lavorare la nostra immagine in maniera molto pesante possiamo andare a selezionare il profilo colore adobe rgb 1998 in realtà sarebbe meglio selezionarlo all'inizio del procedimento non durante qui siamo sulle fasi di salvataggio quindi impostare un profilo colore di lavoro come adobe rgb o profoto rgb in questo momento è abbastanza inutile perché non andremo ad aggiungere informazioni alla nostra immagine però potrebbe ugualmente essere utile nel caso volessimo fare delle manipolazioni molto pesanti importando altre immagini a quel punto il blend tra le due immagini potrebbe beneficiare di avere uno spazio colore più ampio come quello offerto da profoto o adobe rgb quindi teniamoli a mente anche se per quanto riguarda il salvataggio secondo me si esce sempre con i profili colore della destinazione finale quindi srgb se stiamo andando per il web oppure fogra 39 se stiamo andando per la stampa questo è importante ed è importante anche per il web perché tenete conto che se abbiamo un file che porta il profilo colore adobe rgb o peggio ancora profoto se noi non lo convertiamo in srgb prima di postare su instagram avremo dei colori lievemente sballati quindi è un peccato perché magari ci abbiamo lavorato e poi usciamo con un'immagine con i colori sballati invece dobbiamo impostare il profilo colore corretto prima di andare a salvare una volta impostato il profilo colore corretto possiamo fare save as oppure possiamo fare export e salva per il web in questo modo siamo tranquilli che andiamo a salvare il nostro file su instagram andiamo a postare il nostro file sui social dove vogliamo noi e i colori verranno mantenuti quanto più fedeli possibile in realtà come visto prima se andiamo a fare salva per il web viene convertito automaticamente in srgb a nostra insaputa quasi se non siamo attenti a tutti i parametri però secondo me è molto meglio farcelo a mano perché così abbiamo le mani su quelli che sono i parametri di salvataggio cominciamo anche a familiarizzare con quelle che sono le opzioni e i risultati delle nostre azioni sul file prima del salvataggio bene amici come avete potuto vedere salvare con photoshop è più complesso di quello che sembra una volta che noi abbiamo terminato di faticare sul nostro artwork sulla nostra composizione sulla nostra fotografia qualunque cosa stiamo facendo non è detto che abbiamo finito di lavorare perché il nostro lavoro finito sarà la maggior parte delle volte un progetto e quindi un file inutilizzabile sia sul web sia sui social sia sul telefonino non possiamo farci niente con un progetto molte volte non vediamo nemmeno l'anteprima da telefonino e da computer facciamo fatica a vedere l'anteprima del nostro progetto soprattutto se pesa tanto per questo motivo è essenziale sapere come esportarlo e conoscere le impostazioni necessarie a salvare il file con le specifiche corrette per l'applicazione per cui lo dobbiamo utilizzare quindi lo dobbiamo stampare dovremmo fare una certa cosa lo dobbiamo mettere su instagram faremo un'altra cosa è molto molto importante seguire tutti questi passaggi perché se noi non lo facciamo se facciamo le cose a caso cosa succede esplode la terra no non succede niente però abbiamo lasciato dei passaggi non gestiti ed è un peccato perché magari abbiamo passato n ore a lavorare sul nostro artwork e poi lo esportiamo sbagliato e quindi abbiamo passato un sacco di tempo a curare degli aspetti e poi lo facciamo uscire in maniera non curata quindi tutto il nostro lavoro rischia di risentire di una piccola disattenzione verso la fine perché sono veramente due cose da tenere a mente che però ti cambiano la vita perché se io sbaglio profilo colore poi magari vado in stampa e i colori sono sbagliati ed è un peccato perché ho passato tanto tempo a scattare quella foto ho passato tanto tempo a lavorarla e poi potevo metterci tre secondi a dargli il profilo colore corretto non l'ho fatto e quindi le mie tre quattro cinque ore di lavoro vengono buttate via o comunque non performano come io avrei voluto per una piccola dimenticanza è veramente un peccato io vi consiglio di far tesoro di questi consigli e di ricordarvene quando dovete andare a esportare un file perché comunque è importante esportare i file nella maniera più corretta possibile questo lo dico per voi ma lo dico anche eventualmente per i vostri clienti che non sapranno dire cosa c'è che non va però sicuramente se ne accorgono quando c'è un colore che sballa quindi tenetevelo bene a mente a questo punto non mi resta altro da fare che chiedervi un like per questo video perché sono sicuro che se l'avete guardato fin qui qualcosa di utile ci avete trovato seguite anche questo canale perché arriveranno presto altri consigli utili che miglioreranno globalmente il vostro flusso di lavoro se attivate la campanella non rischiate di perderveli quindi è tutto qui sotto a questo punto io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao